50 anni è una data importante? 50 anni ci permettono di guardare indietro e di mettere insieme tutta l'esperienza che è stata fatta. Quando si pensa che si è partiti con un solo prete, non c'erano esperienze di laici, le suore si sono aggregate poco alla volta e oggi noi possiamo mandare qui comunità fatte da preti, laici, suore che interagiscono sia nel campo dell'evangelizzazione sia nel campo sociale che hanno conosciuto un po' tutte le situazioni di questa provincia del sud e dello Zambia quindi le situazioni delle valli, le situazioni rurali, le situazioni dell'altipiano, le situazioni della città cambiando di volta in volta le attitudini di come rivolgersi alla gente vuol dire che abbiamo accumulato una capacità di lettura della realtà e dell'esperienza molto molto forte. I prossimi 50 anni? I prossimi 50 anni sono tutti giocati su qual è il senso della missione. Se rimaniamo nell'idea che è molto diffusa perché è istintiva ed è quindi normale, non è imbarazzante o scandalosa però esiste che siamo noi quelli che evangelizzano perché siamo i più ricchi, i più bravi, quelli che sanno di più e quelli che hanno più risorse verso quelli che ne hanno di meno, noi sbaglieremo certamente prospettiva. Se ci poniamo nell'idea di entrare in una dimensione di scambio, che cosa noi possiamo dare a voi ma che cosa noi abbiamo bisogno di avere da voi, quindi che cosa abbiamo bisogno di avere da una fede dell'Africa che certamente non sarà ordinata come la nostra, dogmatica come la nostra, però più fresca, più espressiva, più affettiva e più capace di entrare per esempio in dialogo con le altre espressioni religiose perché qui c'è l'incontro con le altre espressioni cristiane, l'incontro con l'animismo, l'incontro con le altre religioni ho fatto solo un esempio, ce ne sono molti altri, il tema delle grandi sfide della povertà, dell'AIDS eccetera allora se ci mettiamo nell'attitudine di apprendere, i prossimi 50 anni sono i 50 anni in cui non saranno più alcuni che danno e altri che ricevono, ma scopriremo che a parità diamo e riceviamo. Un'ultima domanda, quanto realmente il fedele ambrosiano sa di questa realtà e quanto realmente crede in questa realtà? La domanda interessante sotto questo profilo, se il fedele ambrosiano ha nella sua parrocchia, nella sua comunità l'esperienza di un prete o di un laico che è partito come fideidono per la realtà dello Zambia dove siamo ora o per qualsiasi altra realtà delle 20 diocesi nel mondo con cui si collabora, c'è una familiarità, un'immediatezza meravigliose di fatto tutto ciò che è stato fatto, non solo come supporto economico, ma pensiamo che solo al supporto personale l'amicizia, l'accompagnamento, le visite, è stato fatto perché quelle comunità erano direttamente coinvolte e purtroppo il grande mondo della diocesi ambrosiana non è che non sia consapevole della realtà missionaria perché sono più di 2000 missionari milanesi nel mondo e quindi questo significa che insomma c'è molto da fare però nello stesso tempo questa familiarità con la missione diocesana ha ancora molto bisogno di crescere. Il vocazionale però la diocesi di Milano ha continuato a offrire preti e a mandare preti in missione? Sì, credo che questa sia stata una scelta dell'arcivescovo Tettamanzi molto interessante e coraggiosa avendola condivisa almeno per qualche tempo, per un paio d'anni, posso dire che è stata una scelta lungimirante che ha indicato anche qual è il ruolo del vescovo, che non è solo quello di pensare all'interno della propria chiesa ma di essere davvero apostolo per tutte le altre chiese. Adesso che sono direttore nazionale mi piacerebbe che tanti vescovi potessero condividere la prospettiva che lui ci ha indicato. E con le nuove vocazioni in Zambia, in Africa? L'Africa è un paese che sta crescendo sotto il profilo delle vocazioni, non è solo l'Africa perché se guardiamo soprattutto alcuni paesi dell'Asia e dell'Estremo Oriente soprattutto dove la chiesa è un po' perseguitata c'è una crescita di vocazioni piuttosto interessante e qualche volta molto intensa e cominciano anche lì delle esperienze di invio all'estero. E' proprio nella prospettiva dello scambio tra chiese, cioè del non dire semplicemente chi ne ha di più ne dia chi ne ha di meno ma del capire che cosa è il di più e il di meno che ciascuno può dare reciprocamente all'altro che ci potranno essere degli scambi interessanti. Altrimenti si rischia di entrare. Una è la prospettiva dello sfruttamento, per esempio in Italia abbiamo bisogno di vocazioni prendiamo le vocazioni dall'estero ma poi non lasciamo loro quello spazio per l'evangelizzazione che sarebbe loro tipico, li riduciamo solo all'aspetto per esempio della liturgia o viceversa abbiamo bisogno solo di strutture e di risorse ma poi intendiamo fare da noi. Nella chiesa non dovrebbe più esistere questo fare da noi ma questo fare insieme tra chiese e chiesa, tra diocesi e diocesi, tra comunità e comunità. Però comunque è importante che questo rapporto sia a doppio senso, non a senso unico nel senso che comunque in qualche modo il sacerdote torni anche indietro ho questa sensazione, se rimane poi si perde in qualche modo il rapporto forse se ritorna può raccontare, può rinsaldare un legame. Qui in Zambia viviamo un esempio concreto di questo fatto oggi ovviamente nella celebrazione sono stati presentati quei sacerdoti e quei laici che oggi sono sul posto, sei sacerdoti e sei laici ma dietro di loro è piuttosto consistente il numero di quelli che sono venuti qui e che sono rientrati in Italia e è anche bello da un punto di vista proprio cristiano spirituale pensare a quelli che ci seguono dal cielo perché ormai ci sono sia preti che laici che qui hanno vissuto, che qui hanno dato la vita letteralmente e che ormai il Signore ha chiamato a sé. Questo gruppo di sacerdoti rientrati indica da un lato che è buono quello che è stato fatto qui in Zambia di continuare questa mentalità del ricambio, uno rientra e un altro viene un progetto si termina ma un altro si apre quindi si dà una continuità sempre che è capace di avanzare nello stesso tempo chi rientra, soprattutto a Milano da un po' di anni si fa questa esperienza chi rientra si aggrega insieme con gli altri rientrati anche delle altre esperienze di altri paesi proprio per mantenere un dialogo con il Vescovo, con chi è nella diocesi, nella Curia eccetera per poter indicare che cosa l'esperienza missionaria può portare all'interno della diocesi nostra.